Raga, bentornati a Bali. Allora, oggi sono da Ballywood, che è praticamente uno studio nella zona di Denpasar, a 20 minuti da Canggu. Sono con il mio amico Lion di MyMovieTravel. È un altro vlogger spagnolo. Vi lascio il link in descrizione. Fa dei video fantastici in Cina, in giro per il mondo, qua a Bali. Ci sono un sacco di video super interessanti, tra l'altro, con tutti gli insight da dentro. Quindi sono video meno ufficiali, ma che portano veramente un sacco di punti interessanti da vedere in vari paesi del mondo, specialmente in Cina, raga. Dunque, oggi stiamo facendo un video promozionale per un'agenzia cinese di Coinoptions. E niente, quindi oggi sto interpretando la parte del CEO. È un'esperienza tutta nuova e è abbastanza assurda. Tra l'altro sto apprezzando come un pazzo qua dentro, perché diciamo che non sono nell'abito adatto a Bali. Fa un caldo della Madonna. E niente, quindi stiamo facendo questo video. Bro, come on, man. F*** it, man. Really. Guy, we have to make here the money. It's like... No, this is not okay, man. No, okay. No, guys, he's so annoying. He's talk, 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 talk. And we have to make the money here. It's important my vlog style. You know, like, I have to make some content for me. You make vlog like this. I never seen you vlogging like that. True. But yeah, guys, go to Humberto's channel, whatever he say, it's true. Guaranteed. No, ragazzi, se mi raccomando, seguite Lion perché fa dei video pazzeschi. E tra l'altro abbiamo raggiunto i 10.000 subscriber quando eravamo insieme nella stessa guesthouse. E quindi tanta roba. Dategli un like, thumbs up, subscribe, comments, comments, come sempre. To all of us. And let's make the world different just by sharing the real experiences. Perché la gente non gli piace troppo quando si parla bene di quello che c'è sotto. E diciamo che quando dici, when you speak the truth, qualcuno non la prende troppo bene. That's true, that's true. I totally understand what he say. I totally agree. Raga, dobbiamo continuare low shooting. We have to make the money, guys, here. By the way, you want to know how much they pay? Non si dice. We are not gonna tell you. But anyway, this is an option to make money in Bali. If you want to make money in Bali, you can contact me, any foreigner you want. And not only in Bali, around the world. Vi lascio il link in descrizione di tutti i contatti di Lion. Quindi se foste in Ciro per il mondo, in Cina, Bali, eccetera, contattatelo e magari troverete un'opportunità di lavoro come quella che stiamo facendo in questo preciso momento. And you don't need to be professional, ok? You can be just yourself. Look, we are just... We are very good, very good. Ok, molto bene, ci vediamo dopo. Dunque, raga, dopo aver lavorato per i cinesi, che tra l'altro è stato divertentissimo, adesso vado a fare un po' di skate perché il mio amico Gabri mi ha sfidato a imparare un trick che non ho mai fatto, un fake big spin. Quindi adesso andiamo a House of Chang'u, che è questa guest house dove hanno all'interno un piccolo skate park. perché voi non ci crederete, è pazzesco. Adesso vi farò vedere il posto. E niente, vediamo se riesco a imparare questo trick. Andiamo. Ciao. 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 Oh. Oh. Landed. Lendit! Buongiorno raga, allora dopo la giornata di ieri in cui avete visto che ho lavorato per dei cinesi più la sessione di skate a House of Canggu adesso stavo andando, mi trovo con Abi a Eco Beach e dobbiamo fare un video per Channel Island qua c'è uno store gigante, hanno chiesto ad Abi di fare un video Abi ha introdotto anche me per questo progetto e quindi adesso alle 5 e mezza del mattino stiamo andandola tra l'altro piccolo aggiornamento, due giorni fa abbiamo fatto una sessione Eco Beach di surf bellissima, purtroppo poi la sessione del Sunset è finita a colpa di un russo con, guardate qua uno e due e purtroppo adesso non la posso riparare fino a giovedì perché due giorni fa è finito il Ramadan e siccome la maggior parte di quelli che lavorano da Aki Shop sono musulmani Aki Shop ha chiuso fino a giovedì quindi boh che palle comunque adesso andiamo a Eco Beach va raga Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dunque raga adesso mi trovo da Aki Shop perché come vi ho detto prima appunto ho rotto di nuovo la tavola, o meglio non l'ho rotta io, me l'ha rotto un russo ma vabbè. Insomma questo è Aki Shop, lui è il miglior riparatore di tutta l'area di Cangu, assolutamente il migliore, riporta le tavole esattamente come se le aveste appena comprate. Adesso io qua ho un danno qui, uno qua e uno qui. Domani la tavola sarà già pronta quindi sono totalmente pronto per tornare in acqua anche domani. Niente raga oggi il video finisce qua quindi come sempre se vi è piaciuto lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, ci vediamo giovedì prossimo. Bella raga!